...Romeo Rosa... che Andreva si è andato a scontrare con il giocatore dell'Inter da espulsione perché è assolutamente gratuito non c'entrava niente non conta neanche sui 90 che ha proteggiato Vattavic e poi ancora Andanovic para sempre l'ha descritto Andanovic attraverso rivediamo raggiarmi a pensare su una partita se dovesse con troppa facilità già qua nasce l'onore è tentativo di accorciare troppa libertà Andanovic che tempo per trossare poi uno, due, tre tocchi